salve amiche e amici oggi apriamo con questa immagine che ci riporta 35 anni fa quando cadeva il muro di berlino fra l'altro mi ricordo quei giorni furono molto emozionanti e mi ricordo anche che in quel momento il mondo aveva una speranza di un mondo migliore che qualcosa sarebbe cambiato poi purtroppo la storia è andata diversamente quindi sì fra l'altro io ho visitato berlino circa 15 anni fa e la città è un museo c'è l'aperto in alcuni punti si vedevano ancora le schegge e i fori dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale comunque poi è pieno anche di riferimenti al dopoguerra la guerra fredda ho visitato il checkpoint alfa è quello che resta ormai piccolissime parti del muro a questo scopo mi collego anche a un libro che sto cercando di recuperare se qualcuno ne ha notizie sa qualcosa me lo dica me lo scriva nei commenti non ricordo il titolo non ricordo l'autore ricordo solo dei passaggi l'ho letto tantissimi anni fa e parlava non tanto del muro quanto delle persone il vicino di casa dell'europa dell'est che tipo faceva la spia per il kgb dell'epoca quelle persone insospettabili che tenevano traccia di tutto quello che facevano i berlinesi e ricordo questo passaggio in cui diceva che alla caduta del muro alcune di queste persone si sono ravvedute hanno capito quello che hanno fatto condannando i loro stessi vicini di casa alla prigione e agli interrogatori alcune persone no mi ricordo proprio questo passaggio che diceva che il mondo è diviso in categorie di persone alcuni si svegliano a un certo punto altri non lo faranno mai comunque tolto questa questa introduzione un po che solleva una riflessione su questi aspetti passiamo oltre parleremo anche dell'italia oggi parleremo di cose particolari come per esempio i nostri vettori spaziali di cui nessuno parla mai per il lancio di satelliti in orbita parleremo della situazione per quanto riguarda lo sviluppo del caccia di sesta generazione in collaborazione fra italia inghilterra e giappone parleremo delle basi militari americane in italia visto che è un argomento che avete sollevato in alcune domande degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione al fronte di quello che è successo in questi giorni e anche altro quindi mettetevi comodi come sempre prima di iniziare mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale siamo a quota quasi mancano una decina di iscritti a quota 12.000 e spero di crescere ancora come canale per farlo diventare una realtà stabile quindi sotto al video mi raccomando troverete i pulsanti per iscrivervi lasciare un mi piace sono due gesti gratuiti poi se proprio volete strafare c'è anche il pulsantino per le donazioni e gli abbonamenti in particolare gli abbonamenti vorrei che fossero più consistenti perché in questo modo potrei riservare contenuti agli abbonati per fare dei discorsi un po più riservati e diciamo anche delle live più a stretto giro diciamo così su argomenti delicati bene quindi affrontiamo la questione italiana con questa dichiarazione del presidente del consiglio giorgia meloni che sentiamo lavorato tutti per la pace questo è corretto dopodiché come io ho spiegato molte volte dal mio punto di vista per costruire pace bisogna bisognava impedire che ci fosse un'invasione oggi se si parla della possibilità che si vada come tutti lo spieghiamo e come tutti abbiamo lavorato perché accadesse verso uno scenario di diciamo di pace è perché gli ucraini hanno avuto un coraggio straordinario e perché l'occidente ha sostenuto l'ucraina e quindi penso che questo sia l'elemento che fa la differenza dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane ma io ribadisco che insomma finché c'è una guerra l'italia sarà al fianco dell'ucraina ok ottime parole diciamo che ecco penso che in questi giorni è dovuto al fatto soprattutto per quanto riguarda l'elezione di trump che il tormentone appunto questa pace in 24 ore e quindi tutte tutte le agenzie di stampa tutti i giornalisti i giornali non fanno altro che rintuzzare i politici su forzandoli a queste dichiarazioni per cui mi è sembrata diciamo ecco l'intervento di giorgia meloni mi sembra piuttosto realistico a quanto meno soprattutto sottolinea una cosa che è meglio ricordare nel senso che il nostro paese è schierato con con la nato con l'ucraina di sicuro non è non è dalla parte della russia quindi forse questo questa è una frecciatina che lancio a qualcuno che ancora evidentemente questo forse non lo ha capito passiamo a parlare poi del caccia di sesta generazione il programma gg cap che vede una collaborazione straordinaria bisogna dirlo fra eccellenze mondiali come la leonardo la bae system inglese e la mitsubishi questa collaborazione porterà allo sviluppo di un caccia di sesta generazione che andrà un po in futuro a partire dal 2035 almeno così dicono andrà a sostituire anche l'euro fighter è un progetto ambizioso è molto interessante per quanto riguarda il giappone poi svilupperà la propria versione sulla base sempre del progetto comune che fra l'altro loro sono avanti soprattutto per quanto riguarda la tecnologia dei motori che dovranno fornire non solo un innovativo sistema di raffreddamento di tutta la struttura per ridurre le sue emissioni termiche ma anche fornire molta energia per quelle che sono le nuove tecnologie dei sistemi d'arma pensate sia in termini offensivi che difensivi un accenno di queste tecnologie lo vediamo già su aerei come l'f35 proprio la bae system è responsabile di uno dei sistemi più innovativi di guerra elettronica presenti sull'f35 quindi insomma la leonardo oltre che essere una straordinaria azienda di successo inattivo fra l'altro mi collego anche a quello che ho visto stamattina che presso l'aeroporto di biella c'è stato un aw 249 che ha svolazzato per un'oretta chiamandosi volo di prova 20 quindi insomma il progresso su questo elicottero d'attacco sta andando avanti e mi piacerebbe fare qualche studio più approfondito più avanti cercherò anche di contattare l'ufficio stampa della leonardo per portarvi contenuti poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se avete informazioni e quant'altro come sempre scrivetemi allora passiamo oltre qualcuno tempo fa mi aveva chiesto informazioni in particolare mi ricordo una domanda in cui mi si chiedeva come mai gli stati uniti hanno così tante basi in italia ok la risposta a questa domanda è molto semplice è dovuto appunto alla nostra storia fondamentalmente il dopoguerra la nostra le nostre forze armate si sono ricostruite ricostituite proprio grazie all'aiuto americano e la prima concessione per quanto riguarda appunto questo sostegno fu quello di dare circa se non sbaglio sono 10.000 ettari da partire dal 1951 scusate mille ettari di terreno fra livorno e pisa per quella che è appunto camp camp derby questo qui ve lo mostro infatti nei giorni scorsi vi ho parlato spesso di voli che partono da pisa e poi vanno diretti al medio oriente perché tutto questo terreno questo è stato uno dei primi concessi agli stati uniti questo è un grosso fondamentalmente è un grosso deposito un arsenale presente sul nostro territorio da qui partono per il medio oriente per forniture a israele per il supporto a tutta la logistica presente in siria e quant'altro e non solo comunque bisogna dirlo nel senso l'italia poi è diventata alla potenza mondiale che è una una nazione stabile economicamente con una importante importante ruolo strategico all'interno del mediterraneo anche grazie al supporto americano questo è un dato di fatto non posso non citare per esempio le basi la base di aviano tutte le volte questa qui per esempio questa è una importante base che ha un fondamentale ruolo difensivo per quanto riguarda l'area nord orientale e orientale dell'europa questa base c'è un grosso contingente americano di anche che utilizza gli f16 per esempio un'altra base importantissima per quanto riguarda le operazioni odierne e anche in previsione del conflitto in proiezione scusate del conflitto in ucraina è certamente la base di sigonella questa da questa base partono i grandi aerei logistici e per la guerra elettronica i ricognitori marittimi stanziati su questa base sono per esempio il poseidon che vediamo il piotto poseidon che vediamo in questa immagine che è quotidianamente in volo proprio a ovest nord ovest del mar nero in quest'area quindi sicuramente ecco il nostro territorio è una piattaforma molto importante per la stabilità di tutto il mediterraneo dell'europa dell'europa orientale un'altra base per esempio è l'aeroporto milita base nato di brindisi che ha una parte fondamentale per quanto riguarda i collegamenti charter e anche internazionali della nostra penisola ma la parte a sud della base è una base nato vedete questi sono i classici shelter militari rinforzati ma è pieno comunque di basi anche altrove voglio dire ne ho citate solo alcune italia germania giappone i paesi che sono usciti sconfitti dalla seconda guerra mondiale sono ospitano molte basi militari americane gli americani hanno aiutato la ricostruzione di questi paesi in particolare italia giappone poi sono stati anche paesi che hanno dato di più in termini di nazioni unite e missioni all'estero per quanto riguarda per esempio aiuti umanitari stabilizzazione di crisi umanitarie o addirittura siamo intervenuti in aree di forte crisi dove erano presenti guerre civili insomma i paesi sconfitti hanno voluto poi riprendersi il loro prestigio andando a lavorare molto all'estero l'italia e il giappone sono paesi che sono intervenite di più ma anche la germania in realtà insomma la collaborazione la fratellanza con gli stati uniti è un dato di fatto il fatto che molti ancora in italia questo non lo sanno o non lo capiscono che i nostri paesi sono legati da questo da questo rapporto è imprescindibile non è che oggi possiamo recidere questo questo questa fratellanza questo rapporto perché siamo strettamente legati in termini militari politici economici è imprescindibile insomma bene andiamo avanti anche sulla scia di questo fra l'altro vi ho parlato nei giorni scorsi di voli dei b52 sui cieli europei e in questo bel video li vediamo scortati da f18 finlandesi e griffen svedesi questa è una bella formazione av qui si vedono è un video della nato ma comunque qui stiamo parlando anche di european air group che è un progetto tutto europeo di interconnettività e operazioni congiunte per quanto riguarda proprio le forze aere ora passiamo oltre mi avete chiesto anche informazioni sul ponte in crimea continuandomi a chiedere enrico ma perché gli ucraini non attaccano il ponte in crimea beh la risposta è perché gli russi lo hanno rinforzato in tutti i modi possibile questa è l'evoluzione dei rinforzi sul ponte queste sono tutte chiatte penso che abbiano uno scopo ferroso per creare degli ostacoli sia in termini dei droni marittimi che droni aerei per impedire attacchi al ponte e questa progressione è avvenuta nella sponda sud ovest fra l'altro vi porto immagini satellitari proprio di l'altro ieri giorno 8 attraverso il satellite sentinel 2 che ci porta a vedere quello che accadeva proprio tre giorni fa scusate un giorno fa questa è un'immagine di ieri quindi vediamo tutte queste strutture che servono a proteggere il ponte non solo i russi poi hanno costruito anche vedete questa è una gru hanno costruito diverse piattaforme lungo tutto il ponte con delle postazioni anti aeree sopra elevate quindi fra l'altro la zona nord di accesso da nord est molto probabilmente è ben rinforzata lungo le due sponde quindi per questo diciamo a meno che non si manda uno sciame di missili da crociera un drone è molto difficile che faccia danni a una struttura così pesante come un ponte voglio dire per distruggere un obiettivo del genere servono cose grosse da un punto di vista militare insomma armi in grado di penetrare il cemento armato e insomma quindi stiamo parlando sicuramente di un attacco che gli ucraini non possono portare adesso poi parlando appunto di immagini satellitari se qualcuno si è chiesto almeno questo mi pare che abbia c'è stata una domanda del genere mi è stato chiesto perché le immagini satellitari quelle più recenti si presentano sempre in fasce ok il motivo in realtà è dovuto alle orbite di questi satelliti fra l'altro qui mi collego a una nostra eccellenza ancora parliamo dell'italia in quanto pochi lo sanno ma l'italia in realtà manda le cose nello spazio noi abbiamo il nostro vettore il vettore vega che poi fra l'altro ce ne sono diverse versioni che è un piccolo lanciatore nell'ordine del centinaio di tonnellate che porta su dai 300 ai 1500 chili come carico utile ed è specializzato proprio per la messa in orbita di satelliti è un lanciatore a tre stadi che che ha fatto diverse missioni proprio per il lancio di satelliti qui c'è un poi report sulla pagina di guglipedia con tutte le versioni e i vari lanci eseguiti qui lo vediamo nelle sue sotto versioni tre stadi in genere quindi perché arrivano immagini così a spicchi delle scansioni satellitari beh ve lo mostro perché per esempio vediamo ecco in questo in questo software questa è un orbita polare di un satellite il tempo qui è accelerato però come vedete l'orbita è stabile quindi con un perielio e una felio molto simili circolare ed è il pianeta a ruotare quindi per ogni passaggio che fa il satellite fa una scansione su una fascia al passaggio successivo il pianeta avrà ruotato quindi non sarà nello stesso punto sarà un poco più avanti quindi è per questo che le scansioni per esempio del satellite sentinel 2 si presentano in fasce così proprio perché è in orbita polare vedete è così bene ok detto questo è per parlare sempre di spazio e di satelliti oggi mi ha fatto morire da ridere questo video che arriva appunto da delle insegnanti russe e un po mi fa mi fanno ridere certe prese di posizioni complottistiche che magari sono le stesse persone che credono non so nel terrapiattismo o in altre cose di questo tipo e poi indossano cappellini di carta a sagnola per proteggersi dai satelliti come fai a rinegare la sfericità del pianeta e dei satelliti e poi comunque indossi cappelli di carta a sagnola insomma quello che dicono queste signore è che vogliono proteggersi dalle onde della propaganda occidentale in queste bellissime immagini vediamo vedete la il processo di realizzazione di questi bellissimi cappelli di stile come devo dire ok tra l'altro questa è un'ottima idea commerciale che ne dite se mettiamo insieme una fabbrica di cappellini di carta a sagnola bellissima poi l'immagine di putin con molto convinte le vedo molto molto convinte soprattutto lei bene allora passiamo invece alle notizie dal fronte molto brevemente cerco di essere più coinciso oggi per quanto riguarda la regione di kursk non ci sono stati cambiamenti però ecco vi mostro vi mostro un po i report geolocalizzati dove c'è stato un tentativo di avanzata russo nella zona di orlovka che non ha avuto successo perché almeno cliccando su questo video che vi passo in descrizione si vede questo convoglio che è stato fermato neutralizzato da parte ucraina quindi la situazione è abbastanza stabile qui in questa parte del fronte lo stesso si può dire nell'area di kharkiv a voi chask lipsi non ci sono cambiamenti un piccolo avanzamento da parte russa il 6 e ieri in questo settore molto a est e poi il resto il grosso come lo sapete ormai ne parlo da giorni avviene nella zona di chasivyar dove ci sono combattimenti queste sono truppe in contatto a toresk dove il taglione azov sta facendo un ottimo lavoro di contenimento nonostante le forze russe il 6 hanno raggiunto questi due quartieri e gli ucraini hanno perso mezzi il 7 però comunque poi c'è stato per esempio la cattura di prigionieri il 4 mezzi russi anche questa una colonna che ha incontrato la sua fine nell'avanzata russa in direzione di pokrovsk che doveva cadere due mesi fa in realtà su questa zona come vedete anche in base al numero di fortificazioni ucraine i russi non riescono a sfondare cercano invece di ottenere vantaggi altrove questa è l'ultima avanzata riportata ieri su questa linea sempre al costo di gravi perdite ma anche da entrambe le parti il 4 un mezzo ucraino è stato distrutto i progressi li ottengono nell'area di kurakove e più a sud quell'area dove c'era fugle dar per esempio tutte queste zone di demarcazione segnano dei progressi russi di alcune centinaia di metri o un paio di chilometri perché i russi stanno avanzando così tanto velocemente in quest'area beh la risposta è abbastanza semplice se vedete nella loro avanzata verso pokrovsk che è durata mesi tra donesk e pokrovsk ci sono una cinquantina di chilometri hanno incontrato una fitta rete di fortificazioni ucraine mentre in quest'area invece non c'è niente letteralmente quindi possono avanzare speed speditamente per quanto riguarda kurakove in realtà la situazione è così ormai da giorni kurakove la davano caduta o almeno se si pensava che i russi avrebbero raggiunto il reticolato urbano giorni fa una quindicina di giorni fa in realtà ma per adesso la situazione è stabile quindi che posso dirvi potrebbero avanzare domani come fra un mese in ogni caso quest'area quest'area sembra piuttosto ormai un discorso a senso unico da parte russa cioè non c'è molto altro da aggiungere passiamo oltre altre notizie correlate odessa questa notte è stata attaccata queste sono immagini della contraerea e droni shahed hanno colpito poi la città droni come questo che poi è stato recuperato uno dei tanti che contiene fra l'altro esplosivo ad alto potenziale e cariche termobariche a farne le spese non è stato un obiettivo militare ma una famiglia ucraina che era composta da madre figlia e nipotino hanno lasciato ci hanno lasciato non posso mostrarvi le immagini però insomma è una notizia devastante in tutto questo il signor putin ha fatto delle dichiarazioni ieri in cui ci ha parlato delle vittime ucraine secondo lui ha detto che le forze ucraine hanno perso molte più persone nella regione di kursk che in tutto il 2023 ha parlato di 30.000 persone non penso neanche che la forza ucraina nella regione di kursk sia così numerosa quindi probabilmente secondo putin hanno perso più gli uomini di quanti ne hanno mandati e poi un anno prima ha detto che l'ucraina secondo putin ha perso 90.000 persone va bene il 2022 poi ha parlato delle perdite russe dice no ma noi ce la caviamo bene abbiamo perso 200 carri armati al massimo 240 allora per parlare di questo visto che me l'avete chiesto più volte in cui qualcuno mi ha criticato detto enrico ma tu parli solo delle perdite russe non ci parli mai delle perdite ucraine no in realtà i numeri ci sono uno volendo fare una ricerca lo fa di certo non non affidatevi a un sito come questo tipo il faro di roma mai sentito dove scrive un certo lucidi che parla di 800.000 unità feriti e dispersi fra i soldati ucraini potrebbero essere 800.000 unità ok va bene i dati sono disponibili anche su wikipedia se uno se li vuole guardare vi do alcune letture che ci danno un'idea anche perché poi fra l'altro la cosa utile di wikipedia per quanto uno possa essere critico c'è alla fine lo so che in italia c'è gente che non sopporta wikipedia però è un ottimo strumento anche per incrociare diverse fonti infatti qui ci sono diverse fonti riportate secondo questi dati per quanto riguarda le perdite non cito i civili anche se vengono riportati da diverse fonti per quanto riguarda le forze ucraine secondo gli stati uniti osservatori che hanno fra l'altro i strumenti strumenti migliori per valutare queste cose sicuramente secondo fonti ucraine si parla di 70 80 mila uomini nei tre nei tre anni quasi di conflitto questi sono i dati poi altre fonti confidenziali ucraine in tutto l'arco del conflitto per quanto riguarda le fonti le perdite ucraine si parla di 80 mila uomini 400 mila feriti secondo il ministero della difesa russo riportato qui su wikipedia si parla di 500 mila fra feriti e caduti ok di cui quasi 6 mila volontari esteri fonti poi indipendenti parlano di quasi 60 mila caduti in combattimento poi vengono riportati anche altri dati come la guardia nazionale le forze di polizia eccetera eccetera quindi sì stiamo parlando di una cifra indicativa di circa 100 mila caduti e almeno 300 mila feriti ok questi sono le perdite da parte ucraina si parla di stime si parla sempre di stime mentre per quanto riguarda le forze russe anche qui vedete ci sono diverse fonti the economist che parla di una cifra fra i 462 mila e 728 mila fra feriti e uccisi use essay parliamo di fonti americane di 600 mila fra feriti e caduti fonti inglesi di intelligence inglese parlo di 648 mila bbc fa una stima fra i 400 mila e 560 mila e così secondo per esempio le fonti ucraine si parla di 681 mila fra feriti e caduti ora apro una piccola parentesi e la chiudo è chiaro che c'è una certa disparità fra caduti russi e caduti ucraini per due motivi in realtà il primo è che le forze ucraine hanno sempre giocato quasi in difensiva quindi se quello che abbiamo visto sempre da parte russa è mandare avanti gli uomini con poca diciamo poco spirito conservativo poco rispetto per la vita dei propri battaglioni quindi mandi che mandi avanti è normale che i russi hanno più perdite in una guerra offensiva di invasione questo po è abbastanza intuitivo l'altro motivo è che a vedere tutti i report di centinaia centinaia di video che arrivano dal fronte da questi quasi tre anni quello che si vede sempre lo stesso copione mezzi russi pieni di uomini dove sono stipati come sardine sui tetti che saltano sulle mine che finiscono sotto il tiro dell'artiglieria che vengono centrati da droni è chiaro che queste non sono condizioni di combattimento tradizionale queste sono situazioni in cui i soldati perdono la vita in condizioni in cui gli viene negato il combattimento non ci arrivano neanche al combattimento questo avviene in un enorme numero di casi riportati e quindi è chiaro che le perdite russe sono superiori non ci piove se poi consideriamo che un operatore dronico ucraino in un giorno può pilotare tipo facendo un esempio 50 droni è chiaro che qui si sta parlando già in questo esempio solo di un rapporto di 50 a 0 a favore dell'ucraina ok se questi sono i numeri poi è chiaro anche i russi usano i droni cioè ci sono perdite da entrambe le parti non lo nascondo però questo è un po il motivo per cui i russi hanno sicuramente più perdite rispetto agli ucraini in tutto questo ho parlato della famiglia che ha perso la vita ad odessa del numero delle vittime e delle uscite insensate il presidente putin il 7 novembre se ne è uscito con una frase del tipo che la russia e l'europa dovrebbero tornare a fidarsi reciprocamente se non penso ci sia bisogno di commentare una notizia del genere quindi concludiamo il video di oggi siamo a 30 minuti e con questa notizia che può essere letta in più modi è interessante il pentagono ha deciso ancora con l'amministrazione biden quindi in questo momento di passaggio di revocare il divieto di fatto di dispiegamento di appaltatori militari americani in ucraina consentendo loro ora di assistere sia nella manutenzione che nella riparazione della moltitudine di sistemi d'arma forniti dagli stati uniti e che poi sono stati forniti alle forze armate ucraine fra cui appunto il caccia f16 e il sistema patriot e il nasems questo è interessante nel senso che accelera un po i processi di dispiegamento da parte ucraina la logistica meno male voglio dire se la rai metal un'azienda tedesca per eccellenza che realizza sistemi d'arma e carri armati ha messo una succursale in ucraina era ora che anche gli stati uniti accederassero questo processo fra l'altro per concludere con questa bella immagine di f16 ne vediamo appunto due ucraini che hanno il classico pilone elettro di guerra elettronica di cui ho parlato anche nei mesi scorsi purtroppo però li vediamo equipaggiati con armi datate come l'AM120B e l'AM9M queste sono armi degli anni 90 quindi sì per abbattere sicuramente droni emissi da crociera possono fare il loro lavoro però ecco se parliamo di una tecnologia più pericolosa per l'aviazione russa non penso proprio diciamo che i russi in confronto hanno armi migliori con questo vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lo ripeto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi auguro buon fine settimana e un abbraccio alla prossima